Settore auto, dopo le difficoltà della pandemia, adesso è nella morsa della mancanza di componenti per costruire nuove vetture. Per le 737 aziende della componentistica del Piemonte, la vera ripresa dunque è ancora rimandata. Vanni Caratto. Crisi del microchip, l'impatto prolungato della pandemia, gli effetti della transizione ecologica. Il settore auto, che guardava al 2021 come l'occasione del rilancio in parallelo all'allentarsi della morsa del Covid, non riesce ancora a trovare la via della ripresa, a certificarlo i numeri delle immatricolazioni. In Europa le vendite sono state in calo del 25% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2020, perché oggi la domanda è tornata, ma la produzione delle fabbriche non riesce a stare dietro alle richieste. Solo per la crisi del microchip, è stato ricordato oggi durante la presentazione dell'osservatorio della componentistica, si calcola che a livello globale fino al 2023 si perderà la produzione di 14 milioni di veicoli. La catena della componentistica italiana si attende comunque un miglioramento quest'anno, anche se la mancanza di microchip, l'ostacolo principale, potrebbe non rientrare prima della metà del 2022. L'offerta nel settore automotive e il cambiamento tecnologico influenza molto sul settore della componentistica. Siamo di fronte, non per la pandemia, a una trasformazione epocale nella catena di fornitura del settore automotive e questo impatta fortemente sul Piemonte, dove quasi il 40% del giro d'affari del settore automotive italiano gravita in Piemonte. Oggi la regione conta al 33% dell'azienda del settore, 737 per un fatturato di 15,8 miliardi di euro, con un calo del 13,8% rispetto al 2019. Per la prima volta da 5 anni calano anche gli addetti, che ora si attestano a 56.700. Sono comunque numeri che confermano l'importanza della filiera per tutta l'economia regionale.